Una nuova struttura polivalente a Pieve Presciano realizzata in sostituzione della vecchia scuola ormai da tempo dismessa. Si tratta di un progetto già finanziato all'interno della convenzione che il comune di Pergine e Laterina sta stipulando con il Ministero. Questa scuola verrà totalmente demolita, verrà portata più avanti sul fronte strada in modo che si abbia anche un ingresso a piano terra. Ci verranno riportati ovviamente gli ambulatori medici, verrà realizzata a piano superiore una cucina pubblica e oltre ad una sala polivalente ad uso e consumo dei cittadini, delle associazioni, magari anche per poter fare una ginnastica dolce per i nostri cittadini più anziani. Quindi è un progetto che porterà di nuovo la nostra polivalente a rappresentare un centro di aggregazione sociale per il paese di Pieve Presciano. E dopo il progetto per la costruzione di una struttura polivalente arrivano a Pieve Presciano anche i progetti di riqualifica per le due piazze del paese. Avevano una pavimentazione storica in pietra che poi è stata tolta con le successive modificazioni anche dei sottoservizi. Verranno ripristinate in pietra con un disegno storico. Si tratta della piazzetta Serri Stori e della piazza di Jacopo Ghezzi. Quindi daranno di nuovo una caratteristica storica a questo borgo che ricordiamolo è un borgo antichissimo che fa parte appunto del comune di Laterina per Genova al Darno. Grazie. 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 Grazie.